La terza corsia del raccordo autostradale Salerno Avellino è un'opera strategica che riguarda tutta l'Italia. A sottolinearlo questa mattina il sindaco di Baronissi Giovanni Moscatiello, il progetto realizzato dall'ANAS, già sottoposto al vaglio del Cipe, è pronto e sarebbe subito cantierabile. L'unica cosa che ancora manca è il finanziamento. Finanziamento che sarebbe possibile grazie all'inserimento dell'intervento nel piano del Sud. L'ultima opportunità per le regioni meridionali di accedere ai fondi europei per un miliardo di euro. Questo dunque è l'obiettivo del documento che martedì verrà sottoscritto dai sindaci dei comuni della Valle dell'Irno, da Avellino a Salerno, convocati dal primo cittadino di Baronissi. L'istanza verrà inviata tramite l'appoggio della provincia di Salerno e della regione Campania direttamente al ministro per le infrastrutture Altero Marteoli. Una richiesta che deve essere presentata in tempi brevi poiché il ministro Raffaele Fitto ha come limite di presentazione dell'elenco di interventi da finanziare il 30 aprile prossimo. Siamo molto fiduciosi, ha detto il sindaco Giovanni Moscatiello, soprattutto perché stiamo parlando di un'opera che ha valenza interregionale. di un'opera che ha valente di un'opera che ha valente di un'opera che ha valente. Grazie a tutti.